I militari della stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno accertato una gestione illecita di rifiuti nella zona industriale di Contursi Terme all'interno di un cantiere nautico. I militari hanno scoperto che nell'area aziendale esterna i capannoni erano depositati in maniera incontrollata sul suolo rifiuti speciali anche pericolosi quali sagome di imbarcazione, polistirolo, legno, cassoni in metallo, cisterne in plastica e fusti cilindrici contenenti secchi metallici tutti in fase di disfacimento. Dagli accertamenti e riscontri documentali è emerso che il deposito di rifiuti non rispetta i limiti massimi di quantità di rifiuti depositati nei tempi di deposito. Per i fatti accertati i militari hanno posto sotto sequestro l'area sulla quale sono depositati i rifiuti per un volume di circa 700 metri cubi ed hanno deferito all'autorità giudiziaria il rappresentante dell'azienda per i reati di deposito incontrollato e miscelazione di rifiuti.